Estanamente no, perché sapevamo che sarebbe stata una partita difficile per noi. Abbiamo provato già dal primo tempo a cercare di giocare, di uscire palla al piede da dietro. Lui sono stati bravi a venirci a prendere alti, a darci tanta pressione. Abbiamo perso un po' di riferimenti e in occasione di due gol abbiamo sbagliato due palle in uscita. Bravi loro a sfruttarle. Però sapevamo che sarebbe stata una partita difficile per noi. Però abbiamo reagito, abbiamo cercato nel secondo tempo di riprenderla. Abbiamo avuto, secondo me, anche due o tre occasioni importanti dove potevamo accorciarle. Bravi loro, però non dobbiamo assolutamente crearci pressioni per questa sconfitta. Assolutamente perché sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Noi conosciamo il nostro percorso, testa alta, vetta in fuori. Dobbiamo tornare a lavorare perché abbiamo una partita importante e dobbiamo reagire subito. Arriveranno quelle partite dove gioco forza per situazioni, per piccole situazioni giornaliere. Qualcuno non sarà in gran forma, qualcuno non avrà una partita perfetta. Però in quelle situazioni va vinta lo stesso la partita, essendo molto più cinici e concreti. A livello mentale questa squadra c'era già prima. È ovvio che quando poi, ripeto quello che ho detto tempo fa, quando poi ci sono stati dei pareggi che potevano essere delle vittorie, anche con dei cambi, con delle sostituzioni, come è successo con il Bari, magari due pareggi si fossero trasformati in due vittorie. Penso che li meritavamo. In quel periodo avremmo magari lavorato un po' più di serenità, ma niente di più. Grazie. Grazie.